Scacco ai beni dei clan, sequestrati dalla direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, immobili per un valore di circa 2 milioni di euro. Destinatario del provvedimento è Domenico Barbieri, 57 anni, imprenditore edile, ritenuto componente della cosca Buda Imerti, operante a Villa San Giovanni e Fiumara di Muro, e attualmente detenuto. Sigilli a 4 immobili, alle quote di 8 terreni, oltre che a rapporti finanziari in fase di quantificazione, intestati o comunque riconducibili sia al Barbieri che ai suoi familiari. Il sequestro richiesto dalla direzione investigativa antimafia è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, preseduta da Ornella Pastore. Il tutto è scaturito da un'indagine patrimoniale condotta dal centro operativo della DIA dello Stretto, volta a verificare le modalità di acquisizione dell'ingente patrimonio societario riconducibile a Barbieri, operante nel settore dell'edilizia già dalla metà degli anni Ottanta. Il collegio ha ritenuto l'imprenditore soggetto portatore di pericolosità sociale qualificata, parole che non hanno lasciato scampo. La richiesta di sequestro appare supportata, hanno scritto gli inquirenti, da elementi idonei ad esprimere la pericolosità sociale del soggetto.